L'usole e lavori Un giorno che l'usole e lavori stava a scostania, chi di te teneva più forza. Non mi vada un viaggiatore che passeva con una mandella a bottiglietta in galla. Allora, se ne aveva mattato d'accordo con un primo di questo che avessi riuscito a fargli lavare la mandella addosso, aveva il più forte. La voce si metteva a soffrire anche tutta la forza che teneva in corpo. Ma più soffieva e più viaggiatore si arbutuva la mandella in galla. All'automa, la povera voce avuta dalla sua perdita. Allora, l'usole sciò e freva accoucho forte, forte assi, tanto che l'usole si entrava avanti la mandella addosso. L'usole accouchò fò costrata a riconoscere che l'usole aveva l'occhio forte. «Esto vantarello ti è piaciuto? Vuoi che te l'arcomina è trovato?» «Esto vantarello ti è piaciuto?» «Esto vantarello ti è piaciuto?» «Esto vantarello ti è piaciuto?»